World Wide Web o WWW dalle iniziali delle tre lettere che hanno cambiato la storia delle comunicazioni mondiali. Quante volte durante il giorno le schiacciamo sulla tastiera dei nostri computer? Eppure raramente pensiamo a chi è stata la mente che ha immaginato questa rivoluzione, questo universo di possibilità che prima non esisteva. Si chiama Tim Berners-Lee, un informatico britannico che esattamente 30 anni fa immagina un luogo dove ospitare questa ragnatela immensa di parole, di suoni e di immagini. Scrive un documento con un collega in cui si parla di documenti rintracciabili attraverso link che permettono di navigare da un'informazione all'altra. 30 anni, sono un tempo relativamente breve, eppure da allora il mondo di internet ha fatto dei passi enormi, una crescita esponenziale. All'inizio di quest'anno, pensate, più di 4 miliardi e mezzo di persone navigano costantemente sul web attraverso 1 miliardo e 700 milioni di siti. Ma, attenzione, un frutto della mente umana ha sempre un po' meno di umano. Se pensiamo che più della metà delle informazioni che viaggiano su internet oggi sono prodotte da macchine e non da uomini. Grazie a tutti.